Eeeh, buona ragazzi, qui con Gioio Spazio, siamo qui in un nuovo video, oggi vi parlo di una cosa molto importante, anche se voi diciamo non mi interessate tanto, ho appena fatto la barba quindi mi pizzica un po', ma vabbè in dettagli, questo è l'ultimo video di questa location, ovviamente lo pubblicherò domenica, quindi tranquilli, vi vedete vedete la video di venerdì che ho fatto, che ho caricato adesso, perché oggi è venerdì vi faccio vedere il mio occhio ecco qua, senza punti, senza niente è come se voi, diciamo anche se faccio vedere quei punti, non si vedono i punti, devi proprio vedere quella cosa che c'ha eeeh brazio quelli che metti lì e fa 100% o anche di meno, e niente, siamo qui a un nuovo video, oggi vi parlo di vi ho detto che vi parlo dell'occhio e vi parlo di dove vado, dove vado io in vacanza quindi se vi provate a incontrarmi o fare qualche video o cose varie mi trovate so che nessuno vi interesserà, ma mi trovate ben delicata eeeh tolve provincia di potenza, quindi sarò a tolve per 8 giorni non mi voglio dire se non ho un po' di città eh ma quanto stai lo dirò un po' più avanti e la cosa nuova e la cosa nuova sabato quindi sotto il video l'ho già fatto mi farò i capelli perché i capelli sono un po' lunghi quindi mi farò anche i capelli che sono fatti sabato pomeriggio quindi eeeh tu dicevi e perché non fai domani quei capelli non c'avevo voglia almeno per ora io sostengo questo video se poi alla fine decido di fare un altro video lo farò più domani ma domani sono ben impegnato ma vabbè ci proverò eeeh vado a vacanza 8 giorni a tolve eeeh sono lì in vacanza provrò a portare qualche video anche anche se non ho la console ho un pc però deve paccare ma vedrò cosa fare mi inventerò qualcosa in questi giorni che sono lì eeeh già qualche idea ce l'ho e penso che chi mi segui già ho già un obiettivo da fare eeeh dovevo fare una crossbox challenge con dei giocatori della squadra che andrò lì e con un platform devo fare perché ti amo se riesco a fare se no ho fatto un po' di vlog nella città mh da ciclittario prossimo video guarda ragazzi ciao 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 ciao